Per ore in attesa di assistenza, ammassati sulle barelle uno accanto all'altro senza alcun distanziamento. Alcuni sono lì anche da tre giorni, molti sono lì per cadute, altri per il caldo che ha accentuato problemi cronici. Lo scatto che la paziente ci invia dal pronto soccorso all'ospedale di Avellino, mentre da ore attende esami per un dolore al petto, conferma purtroppo la drammaticità di un'emergenza nota. Prosegue il caos sovraffollamento al Moscati dopo i campanelli d'allarme di inizio giugno con oltre 100 accessi di media. Nonostante nella giornata di ieri vi fossero ufficialmente soltanto quattro malati per covid, due in rianimazione e due malattie infettive, l'imbuto infernale è tornato a crearsi, causa carenza di posti letto in reparto e carenza di personale, complici il periodo feriale, la soppressione del pronto soccorso dell'ospedale Landolfi. Il Moscati si trasforma puntualmente come ogni estate, anche prima del covid, in un ospedale da campo. Palese, negli anni, è stata l'incapacità ad affrontare un'emergenza diventata ordinaria. La pandemia ha solo aggravato le cose insieme al depotenziamento di Solofra in attesa del rilancio e un atto aziendale che non radduppia il pronto soccorso di Avellino dopo la chiusura di quello dell'Andolfi, ma anzi lo depotenzia. Mentre la dignità dei malati e la qualità dell'assistenza, nonostante gli sforzi, vengono messi a rischio, il caso procede anche a carte bollate. Dopo il comune di Solofra, infatti, anche quello di Avellino deposita al TAR il ricorso contro la delibera di giunta regionale sulla soppressione del pronto soccorso a Solofra. Un taglio in piena pandemia secondo i ricorrenti, una ottimizzazione del servizio secondo i manager della sanità. Le immagini e le segnalazioni, ancora una volta, mostrano una realtà distante, anni luce, da procedimenti amministrativi burocratici e promesse da campagna elettorale.